Siamo a casa di Sergio Barzetti, uno chef che tutta Italia conosce e che fa onore a Varese, visto che è proprio nel nostro territorio. Siamo abituati a vederlo gioviale, disponibile e sorridente. Oggi però la voglia di sorridere è passata, perché Barzetti riduce da una serata difficile, brutta e anche violenta. Cosa è successo? All'inizio sembrava una causa semplicemente aver messo il furgone storto per caricarlo nel dopo servizio per il locale di Milano. Poi si è scatenato in un putiferio con aggressioni, minacce, intimidazioni, botte. Quindi ho passato la notte poi al pronto soccorso e adesso tiriamo un po' le righe e cerchiamo di capire un po' come anche affrontare questo tipo di realtà. Che è da circa quattro anni che fa pressione. Questi sono personaggi nuovi, ma ho in ballo un processo per stalking, ho tante cose, tra cui degli allontanamenti. Però caspita ci si sente sempre meno accompagnati, non lo so. A volte proprio io non ho mai avuto paura, adesso a volte un po' mi fa pensare. Quindi ricapitolando, avevate finito il vostro servizio al ristorante di Malnate, era tarda sera e prima di andare via venite avvicinati da questi personaggi e uno di questi ti ha sferato un pugno. Sì, sì, un pugno. Poi ad un certo punto cosa triste è questa, che ha preso il telefonino, ha iniziato a insultare, a filmare dicendo guardate Barzetti, ubriaco, fradicio, pieno di droga. Io adesso lo tiro vino, lo pubblico. Cioè questa cosa è veramente, fino ad arrivare a dire che sono un fallito, che io oggi abbiamo due attività, quella di Malnate e quella di Milano che è stata una sfida. Abbiamo 16 dipendenti e per me è un onore, no? Aver 16 famiglie, che è una famiglia. Però anche non sentire al sicuro i tuoi dipendenti e sentirti dire certe cose da gente che è del genere, no? Sono stato al pronto soccorso, ho chiesto anche di farmi delle analisi, degli esami per far vedere che io non uso stupefacenti. Io non ho fatto uso neanche di alcol, perché io durante i servizi non assaggio neanche. Ma perché questa cattiveria? Io mi domando. Ma tu che cosa immagini? Pensi che ci siano delle pressioni per farti andare via? Beh, loro mi hanno chiesto di andarmene. Però questo è da tanto, che me lo dicono, è da circa 4 anni. Invece io no. Si è riuscito ad aprire una luce positiva in un bel paese come Malnate, nella zona storica, nel centro storico, perché andarcene. Il locale arriva gente da tutta Italia per mangiare. Non è un fallimento. Non abbiamo clienti, abbiamo ospiti. Ed è bellissimo che gente che arriva dall'altra parte d'Italia venga per assaggiare il prodotto del territorio e accolti da una famiglia. Io non vedo perché uno debba sedere. Stasera purtroppo la decisione è quella di chiudere. E vediamo poi come organizzarci. Il comune mi è stato subito vicino, dicendo che se avevo bisogno di essere tutelato o altro, cercheranno adesso di andare avanti con le indagini. Però non è che sono molto felice. Hai fatto denunce ai carabinieri? Sì, oggi poi procedo con tutto il resto delle altre querele, le denunce. Io non ho nomi, non ho niente. Però i carabinieri già ieri sera, che sono intervenuti, dopo circa una quarantina di minuti, hanno fatto questo intervento e avranno già tutti, penso, i documenti. Boh, non ci sto capendo tanto adesso. Però io non ho tanta intenzione di mollare. Beh, non ci sto capendo tanto adesso.